Si erano trovati a metà giugno, sempre in prefettura Venezia. L'estate è praticamente passata confermando e anzi accrescendo quelle che erano le prospettive già accennate allora riguardo alla migrazione senza sosta dall'Africa. O meglio, sono cresciuti oltre misura i numeri che conteggiano sbarchi e profughi, ma è cambiata in qualche modo prospettiva. Se tre mesi fa ai vertici si parlava principalmente di come strutturare l'accoglienza sui territori locali, ora il problema ha realmente toccato anche buona parte dell'Europa. Ed è proprio in quest'ottica che il prefetto Mario Morcone, capo dipartimento per l'immigrazione, ha definito la questione migranti un'emergenza che investe l'Europa e per la quale noi non potremo sottrarci dal fare la nostra parte. Anche se lo stesso Morcone ha specificato come si attende una revisione dell'agenda Juncker, il tavolo di coordinamento regionale per le problematiche connesse all'accoglienza dei profughi in Veneto ha visto la partecipazione del presidente regionale Zaia, dei prefetti e dei questori veneti dei sindaci di capologhi di provincia, oltre a rappresentanti di vari organismi competenti in materia di accoglienza. Zaia ha snocciolato i numeri dei rifugiati, 6540 sono quelli presenti, ma ne sono transitati 16282. In totale è stato chiesto al Veneto di accoglierne 7890. Le proplessità del governatore e di altri amministratori sulla sua linea riguardano la volontà di assistere davvero chi scappa dalla guerra, donne e bimbi in particolare, e non, come ha spiegato, persone che arrivano connei fanno e confetti. Grazie. Grazie.